Ho bisogno di spazio. Domanda. Io sento che ho bisogno di spazio, che ho bisogno di tempo per me stesso. Sinceramente non so qual è la domanda. Commento. Come spiega il maestro scifo del cerchio Ifior, l'uno e i molti, volume settimo, ogni volta che l'individuo avverte la mancanza di qualcosa, è il suo io che l'avverte. Ho bisogno di tempo, ho bisogno di spazio, ho bisogno di solitudine e via via. Sono delle scusanti per giustificare ciò che uno vorrebbe fare e magari poi non farà. Lo spazio per se stesso esiste sempre perché esiste interiormente ed è uno spazio enorme. Se uno vuole avere tempo per pensare a se stesso e quindi cercare di comprendere se stesso, lo può fare in qualsiasi momento. Mette una forchetta e pensa ad un errore fatto, ammesso che esistano gli errori. Mette un cucchiaio e pensa in che altro modo poteva agire. Mette un coltello e sceglie uno dei tanti modi a cui ha pensato. Mette un cucchiaino e finalmente ha trovato una possibilità cui non aveva pensato. Questo non gli ha portato via dello spazio, non gli ha negato nessuna libertà interiore, ma anzi gli ha dato uno scatto evolutivo.